Non è una novità quello che succede sull'Ionio Tirreno nei momenti di maggior traffico. Grazie all'assenso unico alternato nella Galleria Torbido, gestito da un semaforo, si producono molto spesso file interminabili che scoraggiano e impazientiscono turisti e pendolari che percorrono la strada di grande comunicazione Ionio Tirreno. E questo è solo un anticipo di quello che capiterà dopo la chiusura della Galleria della Limina, che ricordiamo sarà per due anni, prevista per fine dicembre. Insomma, un territorio trascurato da decenni ed ora si raccolgono naturalmente i frutti della mala gestione. Le immagini che vedete si riferiscono a ieri pomeriggio. Molti automobilisti in coda, in attesa, hanno preferito utilizzare la variante per mammola, immaginando di recuperare qualche minuto sulla tabella di marcia. Ma la situazione rimane drammaticamente senza soluzione e ci si chiede i nuovi lavori, quelli che prevederanno la chiusura della Galleria Limina, che tipo di contratto stipulerà l'ANAS con le ditte appaltanti? Ovvero, si lavorerà giorno e notte, sette giorni su sette, tre turni e magari in più punti della Galleria? Oppure è previsto che ci sia una sola ditta ad eseguire lavori e magari col weekend lungo di riposo e non notturni? Insomma, a queste domande politici, istituzioni e ANAS in particolare, devono dare delle risposte sin da subito, perché a questo punto è importante scoprire tutte le carte.